Ciao a tutti amici e amiche e bentornati. Oggi vediamo GPT-4O Mini che è il modello nuovo che ha rilasciato OpenAI che è più veloce, più potente e più economico di GPT-3.5 e che quindi lo va a sostituire interamente all'interno dell'interfaccia di chat GPT. Nel video vedremo le caratteristiche del modello. Quando ha senso utilizzarlo, questo tipo di modello più piccolo e veloce. Faremo dei test pratici insieme e infine poi valuteremo anche i limiti e le potenzialità che ha questo modello nuovissimo di OpenAI. GPT-4O Mini. Questo modello supera GPT-3.5 Turbo in intelligenza e non solo, anche in ragionamento multimodale. Di base è più economico circa il 60% e costa molto meno del 4O, di circa 30 volte. In teoria è multimodale, anche se io ho provato non si mangia ancora in input nei file, nelle immagini e non crea in questo momento neanche immagini. Se lo fa, lo fa col codice ma lo fa GPT-4O. Sostituisce quindi GPT-3.5 per intero all'interno di GPT. Cosa interessante è che questo modello è circa tre volte più veloce del modello di punta che è appunto GPT-4O. Tre volte più veloce. Vedremo perché potrebbe esserci utile sul lavoro e sui compiti, sui task che dobbiamo fare con le AI. Quindi di base questo modello si colloca su una fascia di modelli veloci ed economici in maniera similare ad esempio Cloud IQ oppure Gemini Flash che sono dei modelli piccoli veloci economici che vanno un po' a competere con questo modello qua che però li batte tutti. Io andrei direttamente però a vederci insieme i benchmark e come funzionano un po' questa gamma di modelli. Qua ci spiega tutto quello che vi ho appena detto. Questo è la presentazione ufficiale. La troverete comunque in descrizione poi. Questo qua vedete sono i benchmark. Cosa vuol dire benchmark? Significa sono delle prove che si fanno, si effettuano su questi modelli per cercare di classificarli. Questi qua sono benchmark in particolare che ci fanno vedere a confronto GPT-4O Mini, Gemini Flash, Cloud IQ. Vedete questi qua sono i tre modelli economici veloci. Poi abbiamo il GPT-3.5 Turbo che è quello vecchio e GPT-4O che è il modello di punta più potente di OpenAI. L'arancione è il GPT-4O Mini. Vedete che supera in tutti i benchmark gli altri modelli della stessa categoria. Addirittura avvicinandosi su alcuni benchmark anche al modello più potente di GPT-4O. Super interessante perché vuol dire che forse per alcuni task veloci e semplici possiamo anche optare per utilizzare GPT-4O Mini. Ma lo vediamo tra un po' questo. Ora, bellissimo questo. Fantastico. Io però volevo qualcosa di più completo che vi desse un quadro preciso della situazione. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto creare all'AI di Cloud 3.5. Per chi se la fosse perso è un modello molto potente, forse tra i più potenti che ci sono oggi di Cloud, di Antropic, che vi lascerò poi il video da qualche parte. Vedete che qua io ho fatto mettere intanto qualche altro modello in più. Quindi ora qua vediamo ad esempio Cloud 3.5, Sonnet e anche Lama 4 Billion Parameters. Se clicco sui benchmark, vedete, mi dice anche il tipo di capacità che hanno testato in quella prova, in quel benchmark. Vi lascerò questo tipo di risorsa gratuita chiaramente in descrizione. Vedete come si avvicina in realtà il 3.5 al 4O, anzi lo batte praticamente in tutti i benchmark. Quindi in realtà ad oggi il modello più potente è Cloud 3.5 Sonnet, non per tutto però. Ecco, vi ricordo che sicuramente i modelli di punta da utilizzare sempre per task difficili e complessi sono sempre GPT-4O e Cloud 3.5 Sonnet, perché sono quelli che in tutti i benchmark hanno ottenuto le performance migliori. Lama per adesso non pervenuto, ne è uscito proprio oggi un altro, o ieri mi sembra, che è il Lama 800 Billion Parameters. Lo vedremo poi in un altro video. Questo è il mio account con il Plus, quindi l'abbonamento Plus di Chat GPT ho accesso chiaramente prioritario ai modelli, a tutti i modelli. Il modello più potente, che è GPT-4O in questo caso, è quello che cosa di più come modello in assoluto. Poi c'è il modello intermedio, che loro chiamano modello legacy, ovvero bilancio a potenza e prestazioni. E poi c'è il GPT-4O mini, più rapido per le attività quotidiane. Quindi è il modello più piccolo ed economico. Non ha la potenza chiaramente dei top tier, ad esempio però batte il GPT-4 in questo momento, anche se è strano. Questi modelli qua sono modelli specializzati, quindi servono per particolari tipi di compiti. Ognuno ha una diversa capacità di risolvere correttamente o con efficacia un certo tipo di task. Semplice, intermedio avanzato. Vediamo subito come attivare GPT-4 mini. Se siete utenti free, senza la plus, vedete che non c'è qua GPT-4 mini. Come mai? Quando noi abbiamo l'account gratuito, il primo prompt che inseriamo fa andare di default GPT-4O. Come si vede questo, basterà andare su questa iconcina qua. Se voglio utilizzare il mini, basterà andare a fare questo tasto qui e selezionare, vedete, GPT-4O mini. Da qua in avanti, io se lo clicco, mi cambia l'output e adesso ho accesso a GPT-4O mini. Invece con l'account plus vi ricordo che non ci sono problemi. Possiamo selezionarlo quando vogliamo. Passiamo quindi ora alla parte nella quale vi mostro quando ha senso utilizzare un modello piuttosto che un altro. Se dobbiamo fare dei compiti complessi, dei task complessi, io vi consiglio sempre di utilizzare i modelli più potenti. Quindi utilizzare sempre GPT-4O. Assolutamente. Quindi per fare ad esempio brainstorming, oppure decision making, oppure stimolare con idee di business o altre cose, io vi raccomando sempre il modello top tier, di punta GPT-4O. Quando invece dobbiamo fare dei compiti intermedi, possiamo anche valutare di utilizzare ad esempio il modello legacy. Dovrebbe essere sufficiente. Dico dovrebbe perché va provato. Per invece compiti che sono semplici e ripetitivi, io vi consiglio di utilizzare ad esempio GPT-4O mini. Ma ci sono dei limiti, che ora appunto vediamo prima di passare alle proprie pratiche. Vediamo quindi i limiti che ha il modello per capire quando è davvero utile questo tipo di AI e invece conviene non utilizzarla in certi casi. Non può creare immagini, non può navigare online, non si possono allegare file in questo momento. Non possiamo ancora definirlo multimodale. Lo sarà probabilmente tra un po' di tempo. Ad oggi tecnicamente è multimodale ma non lo è ancora. Ad esempio qua avevo chiesto di creare un gatto, ok, e con GPT-4O mi ha creato questo. Sì, è un gatto creato con il codice informatico. Infatti se io guardassi qua, vedete che qua è il codice per creare il gatto, ok, questa cosa non la fa GPT-4O mini. Voi mi direte ma come mai GPT-4O fa questa roba qui e non crea un'immagine con ad esempio l'AI per immagini che è Dali3 che è integrata in CiaGPT perché Dali3 è disponibile solo per il plus. Se non lo avete, non avete neanche la generazione di immagini se non con il codice. Ho provato anche a fare questo. Qua ho provato anche a dargli un grafico, un PDF con l'analisi finanziaria di NVIDIA e anche i grafici sono più brutti, vedete? Quindi comunque la versione di GPT-4O è meno potente ma non riesce a farlo anche con il mini. Anche questo non c'è. E boh, poi potremmo parlare un bel po', ma io taglierei qui e andrei a fare test pratici. Perché comunque niente, non può fare molte cose questo modello, perché è quello più piccolo. Abbiamo visto cosa non sa fare, vediamo anche però cosa può fare, che è la cosa più interessante probabilmente. Quindi consci dei limiti che ha questo modello, vediamo le cose che riesce a fare e con che velocità le farà. Task di scrittura e revisione. Creare ad esempio paragrafi, descrizioni di prodotti, post e articoli per i social e i blog, anche una storia creativa. Scrive un articolo di blog di 500 parole sui benefici dell'attività fisica per la salute mentale. Vedete quanto è veloce? È rapidissimo. Questa è la cosa interessante. Per fare traduzioni o cose similari, task semplici, posso utilizzare questo modello. E lui mi ha fatto questo output nel quale mi ha descritto tutti quanti i benefici che ci sono nel, appunto, fare sport per stare meglio psicologicamente. Quindi ad esempio ci spiega come l'attività fisica fa ridurre lo stress, migliora l'umore, migliora l'autostima, miglioramento del sonno, aumenta delle capacità cognitive, ha anche influenza sulla socialità delle persone e ha anche strategie di coping. Quindi ha anche dei benefici sull'affrontare e gestire i problemi quotidiani. Vabbè, ok. Nuova parola sbloccata, coping. Quando facciamo queste cose qua vi ricordo, piccolo tips, che noi possiamo poi andare a fare delle variazioni. Io qua vi incollo il testo. Io potrei andare a specificare il tono, amichevole e formale, la lunghezza, usare le emoji, oppure un linguaggio specifico. Quindi ad esempio posso dirgli ricrealo di 100 parole con tono usa le emoji. Vedete che lui mi andrà a creare una versione stringata del testo in genovese. E l'ha fatta. Un altro esempio di questo è quello ad esempio della scrittura creativa. Quindi se gli dicessi ad esempio di scrivere un racconto breve di fantascienza ambientato in una città sottomarina nel 2100. Ok, vedete, ora lui mi scriverà questo tipo di storia che io ho chiesto di creare. Guardate che velocità che ha. Incredibile. Sicuramente per task ripetitivi e veloci io vi consiglierei sicuramente questo modello perché farlo a scrivere a GPT4O ci metto un bel po' ve lo fa benissimo però. Ma non solo perché ad esempio potrebbe anche essere utile per revisionare dei paragrafi. Io qua prendo un articolo che ho già selezionato di reti. Che cos'è una rete neurale? Questo è il sito di IBM. E qua vedete io ho dato da mangiare il testo dell'articolo e lui me lo ha riassunto. Passiamo agli altri. Task di assistenza e supporto. Fornire risposte predefinite a domande comuni in un contesto di supporto clienti. Genera una risposta standard alla domanda quali sono i tempi di consegna per gli ordini internazionali per cibo per gatti. E qua mi andrà a creare appunto un file di testo dove ci analizza i tempi di consegna per gli ordini internazionali di cibo per gatti. Pure desidero conoscere le informazioni su questo servizio di consulenza che potrei offrire. Vediamo anche i task di calcolo e analisi. Facciamo l'esempio per la finance, per la finanza personale. Quindi in questo caso significa l'esecuzione di operazioni matematiche di base oppure conversione di unità o calcoli finanziari semplici. Calcola l'interesse composto per un deposito di 5.000 euro a un tasso del 5% anno per 3 anni. Sta usando il mini. Vedete che va a razzo. Vedete qua mi ha fatto tutto il calcolo con la formula. È arrivata l'AI a dirmi che l'interesse composto e guadagnato è di 788,13 euro che è corretto questo calcolo. Ok? Quindi so good. Se volessi sapere ad esempio il capitale finale dimmi il capitale finale sarà appunto di 5.788 euro. Ok? Corretto anche questo. Bravissimo. GPT-4O mini. Questo tipo di calcolo matematico è qualcosa che poi possiamo traslare anche sull'analisi dati. Quindi banalmente io posso anche ad esempio far analizzare un testo. Ok? Dal quale far estrarre alle AI delle informazioni chiave. I cosiddetti attributes. I attributi di un testo. quindi estrai le parole chiave dal seguente paragrafo. CTRL-C diamo di nuovo questo. Un caso d'uso molto utile. A lavoro. Estrani punti chiave di questa riunione. Di questo documento. Di questa procedura. E qua vedete mi ha tirato fuori tutte le parole chiave. Funziona anche con i concetti. Dammi cinque concetti chiave in bullet point. E qua vedete mi tira fuori cinque concetti chiave dell'argomento che è trattato dentro il testo. Che in questo caso il testo che ho scelto è sempre quello delle reti neurali di IBM. Altro caso d'uso è per i task di pianificazione e organizzazione. Crea un piano di lavoro settimanale per un team di marketing, per un'azienda di HR e recruiting. Con uno schema di attività giornaliere e scadenze principali. Sono sorpreso molto dalla velocità. È abbastanza scioccante. Aggiornamento di TPI, marketing, report analytics, brainstorming nuovi video di contenuti, revisione e approvazione dei contenuti da pubblicare. Ha pianificato tutto quanto. Funziona anche generare un po' memoria per un appuntamento pinco pallino. Vabbè comunque. Ora vediamo task educativi di formazione. Generazione di domande per quit test e attività formative. Crea domande a scelta multipla sul tema di marketing digitale su LinkedIn. Vedete che qua mi ha fatto una serie di test. Ok. Per valutare le skills di marketing su LinkedIn. Qual è l'obiettivo principale dell'uso di LinkedIn per le strategie di marketing digitale? Aumentare il numero di follower su attività formale social. Generare lead e costruire relazioni professionali. Vendere direttamente ai prodotti e clienti. Incrementare la visibilità sui metodi di ricerca. Bisogna capire comunque se sono a risposta corretta o più risposte possono essere corrette. Probabilmente è generare lead e costruire relazioni professionali. Perché su LinkedIn ci si rivolge a aziende per professionisti. Quindi fare marketing vuol dire avere più visibilità e generare lead. Che significano contatti che potrebbero essere interessati alla nostra offerta di prodotti o servizi. Questo qua non credo se è corretto perché prodotti non è detto che vendono prodotti. Comunque questo è un esempio. Comunque vedete che sto usando a profusione GPT 4O Mini. Il pensiero è che prima queste cose qua erano fatte da GPT 3.5. Cioè siamo già a un livello incredibile. Qua ad esempio io chiesto di spiegare il concetto di machine learning in parole semplici per un pubblico non tecnico. Addirittura facendoci un esempio del bambino. Quindi che il machine learning è come un maestro che insegna a un bambino a riconoscere i diversi tipi di frutta. Perché ovviamente con gli esempi noi esseri umani impariamo meglio. Lui lo sa bene e quindi in parole semplici e per un pubblico non tecnico. Lui automaticamente trasla subito in facciamo degli esempi. Così è più comprensibile. Caso d'uso del brainstorming. Quindi significa la generazione di nuove idee parlando con il modello. Non vi aspettate qualcosa che dovete per forti utilizzare. È più un trarre delle idee. Che poi dovete comunque rilaborare voi. O farlo con un modello più potente. Non con questo qui. propone cinque idee di una campagna di marketing sui social media per promuovere un nuovo prodotto di... ...bellezza. Io già non so niente di prodotto di bellezza ma lui mi dà delle idee molto buone per la campagna di marketing sui social media. Magari ho un cliente che devo seguire perché fa questa attività qua e io non le so bene. Ecco qua. sfida di trasformazione, collaborazione con influencer e beauty blogger, video behind the scenes del prodotto, mini campagna di testimonianze clienti, concorsi e quiz interattivi. Possiamo ad esempio chiedergli un'altra prova di brainstorming potrebbe essere genera 10 idee per un'app mobile innovativa per il settore fitness. E qua ci dà 10 idee di sviluppo di un'app innovativa per il fitness. Di queste qua me ne ha date qualcuno super interessante. Ad esempio, fitness con realtà aumentata è interessante ma siamo un po' indietro. però ad esempio allenamenti personalizzati o personalizzabili con le AI. Vabbè, fitness social anche non è male. Oppure anche esercizi interattivi con feedback in tempo reale. Quindi che utilizza sensori del telefono e indossabili per dare feedback. Anche questo, fitness e gamification, non male. Vi ricordo che ci possono essere delle variazioni, chiaramente. Vi invito sempre a sperimentare. Ad esempio possiamo dire di categorizzare le idee in un certo modo, fornire pro e contro ciascuna. Oppure seleziona le tre idee migliori. Secondo lui eh. Lui mi ha dato questa che era quella che avevo visto anch'io. Che avevo anche selezionato. Anche questa qua l'avevo selezionato. Lui mi dà fitness e nutrizioni integrati. Che in effetti non l'avevo letta bene questa ma in effetti potrebbe essere più utile. Cioè integrare anche un piano alimentare. Banalmente se devo prendere un integratore con multivitaminico per allenarmi. o insomma integratori di amminoacidi essenziali. Posso chiederlo a lui e lui me lo fa. Questo tipo di task, il brainstorming vi ricordo, è un task di alto livello. Quindi un task complesso. Vi converrebbe tecnicamente utilizzare il modello di GPT-4O. Concludiamo con il problem solving. Cioè comunque task complessi. Come anche il decision making. Il making. Quindi il prendere decisioni. Un esempio di problem solving è questo. Come posso migliorare il tasso di conversione dei miei siti e-commerce? Il tasso di conversione significa quante persone che entrano sul mio sito internet comprano effettivamente. Ok? Ne arrivano 100 di queste 5. Arrivano al carrello. Due acquistano. E qua ci dà un'idea. Quindi ottimizzare la velocità del sito. Design e usabilità. Mobile optimization. Call to action. Immagini di descrizione dei prodotti. Ottimizzare la SEO. Fondamentale questo. Finiamo con l'ultima cosa che è quella della generazione di codice informatico. Crea il gioco di Snake in Python. Per chi è su YouTube vedrete a schermo il gioco di Snake. È roba semplice comunque ragazzi. Cioè se anche gli avessi chiesto crea un Super Mario semplificato l'avrebbe fatto. Oppure poi gli possiamo dire ad esempio anche scrivi una documentazione dettagliata per la seguente funzione Python. E inseriamo la funzione. Comunque sa programmare bene questa AI qua. Crea comunque un buon codice informatico. E questo lo sappiamo perché come vi mostravo prima. Vedete che l'arancione è il mini. Vedete che nel Human Evil. Quindi misura le capacità di programmazione e esoluzione dei problemi di codice. Vedete quanto è brava a programmare. È di poco sotto il modello più potente. Quindi per programmare anche cose semplici potreste pensare di utilizzare questo tipo di modello di AI. E vabbè ora io non scenderei nei particolari. Anzi sono curioso comunque di sapere voi quale AI usate e perché. E se userete appunto questo tipo di modello oppure no. Userete degli altri modelli. Andiamo sulle conclusioni. È interessante che OpenAI abbia rilasciato questo modello per entrare a gamba tesa diciamo. Nei modelli veloci ed economici. Cerca di aggredire in questo caso il mercato dei modelli leggeri. Low tier. Per evitare appunto che gli sviluppatori e non solo optino per modelli più economici. Come ad esempio quello di Gemini 1.5 flash e abbiamo visto anche Cloud 3 IQ. Non solo. Si avvicina anche in maniera molto marcata ai modelli più potenti. Quindi se vediamo che sono così vicini i modelli sui benchmark. Chissà dove si posizioneranno con il prossimo rilascio. Quindi sarei davvero curioso di vedere intanto dove si posizionerà il modello di Cloud 3.5 Opus. Che sarà il top tier di Cloud. E GPT 5. Io comunque ricapitolando. Vi consiglio calzamente di utilizzare questo modello per task semplici e ripetitivi. In modo da non sovraccaricare e sprecare prompt inutili con il modello più potente. E anzi questo modello è più veloce. Quindi sono task che voi potete fare con più velocità. E con un certo grado elevato comunque di efficienza. Grazie amici per chi ha seguito fino adesso. Ovviamente. Un abbraccio come sempre dal Salve Cloud. E a presto qui sul canale. Buonasera. Buonasera. E.. Buonasera. Can skateare.